Ehi, sono Pazzox, oggi siamo... ah che cazzo... oggi siamo in un free to play chiamato Awaken ed è la quarta volta che cerco di avviare la roba che continuamente CRUSH. L'avevo anche registrato ma la registrazione sei fottuta, non so perché... Bene così, iniziamo benissimo, ma io ero curioso di vedere queste Mesh Emotes, che cacchio so? Ho visto già fin troppo, io direi di continuare gameplay dall'altra parte Play! Seleziono regione e Europa applica... ok, Team Deathmatch Questa è la seconda volta che cerco di avviare il Team Deathmatch perché praticamente prima aveva caricato una mappa Cazzo, tutta pagata, tutta che non si capiva niente, troppo sono uscito a registrare Perché appunto mi ha cancellato la registrazione, non so perché E il gioco impazziva Poi è crashato così improvvisamente E ho capito che qualcosa non andava Adesso spero che... vada... il gioco Ok, penso stiamo andando e... cosa bisogna fare io non lo so È la prima volta che gioco con voi Come prima 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 volta Quindi non lo so Andiamo Ok Mi lancio Eeeh, cosa? Quale grafica, però nooo Caricami lo state texture, per favore Carichemela È brutta da vedere Carichemela Ma come si salta, non lo so Ma come si salta, non lo so Ok, così corre Ah, R1 sa... ah, vola proprio, non è che salta C'è pure la benzina Con calma Riusciremo a giocarci Ok Oddio, la... il metodo di gioco non... Cioè, il gameplay non mi sembra così brutto È la grafica che devo migliorare O è la mappa che fa stile Ok, ho ucciso qualcuno, non so neanche come Ma io mi sto massacrando qua Aiuto, aia Sono inciampato male Ma un pezzo di merda Dove devi far fare quest'altro Spiegamelo subito Muori male Ah, vedi A meno, a meno so sparare in sto gioco Sono pure un Terminator, a quanto pare Ah, non è un super salto che ho fatto con i level E questo... oh Mi sono infulando No, ma che brutta mappa Proprio mi è capitata Aia Aia Che poi i testi sono scomodissimi Non è che c'ha questo Per correre X per saltare No, R1 per saltare E L1 per correre Scomodissimo Eh Ok Non vedo nemici Ah, è un nemico quello lì quando mi segnala Ok Arrivo Mi serio, sto perdendo Arrivo Arrivo Ma lì ha proprio una mano firma però da come sparo Guarda la mia Ah, mi hanno colpito Mi hanno colpito Ho delle scherce Su di merda Aia Ma carica del texture Guarda che figo che sono io all'ultimo posto Ah, posso pure fare la provocazione Tobi lancio le cose Ma cosa quello la gallina? Quello non fa niente perché si rende figo Eeeh Vabbè Ho visto Ho visto Come fa se fai gli gli shot Per esempio Aia Aia Nooo Perché mi è venuto più male Ho preso Oh Grandi culi Ancilla che non si può dare il pugno Ah dai Dove se perché è potenziato Vero? Fede Odio si giochi Quando Tu sei più forte dell'altro Ma nonostante tutto Uno contro uno Di fronte a fronte Ti batte perché C'ha le armi più fighe Più forti Ah ma quindi se premo L3 Mi dice c'è un nemico lama Invece no Eh infatti ho confuso quel povero giovane Credo sia giovane Eccolo là Quindi posso marchiare Beh 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 Cos'è? Cos'è? Posso di mer... Nooo Ho cercato mare Ah T'ho preso Ah Come corre quello Aia il culo Una volta che devo fare Ma che cazzo è quello lì? Tocco Granata Ma dove sta? Ah è morto Cos'è questo? Un premio? Ok forse è per rianimarlo Sì Ah già che ho fatto lo scudo Vaffanculo Mori male Ah però neanche io posso sparare Sono troppo forte Ma cosa cazzo vuole questo gioco? Ma cosa vuole questo gioco? Che sono più forte? Ma togli le palle Ma stai buon umori Ma pensate Non c'ho mai giocato a sto gioco Sono un pro Ci sono nato per questo gioco Non è vero niente Sono stramorto Io credo che quello più divertente Tra questo stile di gioco Sia quello per il visore Che è molto Ha la mappa proprio più luminosa Ha una grafica molto migliore Ed è stra divertente No dimmi tu Come cazzo si è stato messa questa cosa? Dimmelo Uno può dire L'ho toccata Ha avuto un infarto La Container Sei morto Granata Mamore sei zitto Se lo faccio prima in sta partita Guarda chiudo il gioco Perché è impossibile Sto facendo milioni di kill E in altro Scappi 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 Peccati questa Sono in troppi Sono morto Perché troverai troppo bello quando muore Sei stramorto Sei stramorto T'ho preso per dietro Ti ho fatto parecchio danno da dietro Mi sta piacendo tantissimo Questo gioco E' un giochino Che si Può divertire Penso per quella giornata Però non lo vedo così Anche lo devo provare tutte le altre cose Ma forza mi sento un pezzo di merda Fatelo fuori Aia Prima devo andare in tesa E poi io esploto Sembra giusto E cos'è stoppito Cos'è stoppito di sottofondo Dai abbiamo vinto Porca troio Sono il migliore Credo eh Non lo so Hai scritto Eureb Sono migliore Porca troio Quante medaglie si sblocca Sono il primo Sono il primo Sono il primo Da giocare Questo giocare Minchino Galline Ma perché tutte le galline Basta Ho vinto il gioco Ho vinto tutto Quello corre Così va bene Androide salvatico scuro Passa qui Ma stai buono Sei un ubriaco Ma è un imbecille Quello uomo Basta Che cazzo è successo Ho girato E scomparso l'uomo Ok Andiamo Mi cago Mi cago Questo uomo Un po' un imbecille Vero? Va bene Ho avuto un infarto L'ha rimasto Sì Allora vieni Non viene Perfetto Considero un cazzo In questa mappa Sto arrivando Dove l'hai visto? Non è vero niente Decidetevi Ma non è vero niente Siete imbecili che premeterle tra a casa Non è vero niente Non è vero niente Questa mappa Ecco è molto molto Per esempio Migliore perché Non è che si trovano tutti i nemici Improvvisamente Almeno ci possiamo nascondere Almeno ci possiamo nascondere Calvo perché non vi do nessuno Ma finisci di Dire che c'è un nemico Di là e di qua Si può Sono caccato male Però se mi dai a casa Ma tu sei imbecille Oh non ci trovano nemici Ok ok uno sto morendo Credo Eccolo Ma cosa è molesto cosa Che mi attacca Ha fatto assist Cosa Non ce ne uno Mino male dopo 6 minuti di tempo A cercarne uno Faccio la kill io No ci sono negato la kill Un pezzo di merda Vedo ci sono altri qua intorno Questi due pezzi di merda Eh no Non c'è nessuno Eh io ho un'altra ora Per provarli Vabbè mancano 14 secondi Quindi penso che abbiamo Leggermente vinto la partita Ma dice basta Questa buffia Che mi vuole cadere Perché Un nemico Faccio pure gli ultimi secondi Ah il mio giocatore è stato Un nemico Non ci trovavano Le persone Non è stato un team Ma c'è stato L'unale circa il tesoro Vediamo che posizione sono Sono terza E vabbè Perché tutte le galline Va bene Io direi Di uscire Dal gioco Perché Ma non potevi darmi Questa mappa Che era bella luminosa Vabbè Quindi che dire Spero vi sia piaciuto Questo gameplay Che è stato enorme Perché sono ore Che ci sto provando A giocare E verrà 15-14 minuti Il video Nelle parti più interessanti Se vi piace questo gioco Basta commentare Se volete Altri episodi Basta chiederlo Io come sempre Attorno al video Attorno alla mia testa O dove Cacchio vi pare Metterò Altri 5 canali Sponsorizzati Non vi preoccupate Se il vostro canale Non è ancora uscito È perché E dopo questo video Ci sarà O dopo dopo l'altro È perché siete in fila Giustamente Siete in tanti E io mi sto mettendo Uno dopo l'altro Non è che Siete in tanti Non potete più Essere sponsorizzati Potete sempre chiederlo Che prima o poi Essendo attivi Potete rivedere Il vostro canale Non riesco più A parlare Perché non ce la faccio più Con questa musica Stra epica Di saluto E come sempre Un dolcissimo E carmissimo He he E non scaricate questo gioco Perché mi fa impazzire Molto E non scaricate questo gioco E non scaricate questo gioco E non scaricate questo gioco